Premio giornalistico Estra per lo sport, prorogata al 14 dicembre la scadenza per presentare gli elaborati. Il premio è riservato agli iscritti all'ordine dei giornalisti e ai praticanti alle scuole di giornalismo. C'è tempo fino al 16 gennaio 2020 per presentare sulla piattaforma www.ecube.it la propria candidatura a E-Cube, il concorso di Estra, Nana Bianca e Startup Italia, per giovani aziende innovative. Estra informa, al via la campagna Estra ti avvicina e ti informa sui bonus sociali luce e gas. Estra ha distribuito nel 2018 26 mila bonus a famiglie in difficoltà per una riduzione media delle bollette di circa 100 euro annue. L'istituto energia e ambiente di Colle Valdelsa, di cui Estra è partner, sempre più alternativa ai percorsi universitari. Il 90% degli iscritti trova lavoro entro un anno e a fine ottobre al via due nuovi corsi a tema energia. Grazie a tutti!